Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale vi voglio far vedere i due nuovi numeri della serie di Warhammer Conquest che ricordo esce in edicola e sia il link che in descrizione ma poi ve lo metterò anche nel corso del video vi faccio vedere tutto quanto il piano abbonamento perché potete prenderlo direttamente in edicola quindi ogni singolo numero o fare l'abbonamento cosa che consiglio anche perché con l'abbonamento vi mandano della roba in più particolare tipo tronchesine, pennellini e cose varie e soprattutto anche l'endol per dipingere le miniature e questa qui è roba che avete direttamente con l'abbonamento comunque tanto sul sito della Shet trovate tutto e ringrazio ancora una volta la Shet per averci fornito i successivi due numeri rispetto a quello che abbiamo fatto la volta scorsa che sono il quinto che è un numero molto particolare e che vi consiglio di comprare o se ve lo siete persi comunque di richiederlo all'edicola anche perché ora appunto andrò a spiegare il perché è il numero 6 in questi due numeri come vediamo nel numero 5 che è quello che vi stavo dicendo ora nel numero 5 c'è un tenente degli ultramarine e qui niente di strano l'unica cosa è che è una pedina da collezione fatta appunto per il gioco di Warhammer Conquest quindi è una pedina che possiamo dire unica che non troverete nei negozi della GV o cose del genere quindi almeno questo qui come numero è importantissimo prendetelo e infatti io ho un amico che addirittura se ne è preso due copie perché c'ha un'edicola perché appunto la miniatura che c'è dentro è una miniatura semplice di un tenente tra l'altro ha fatto bene che vi faremo vedere sia montata che dipinta nel corso del video e è una pedina rara quindi questo prendetelo numero 5 prendetelo assolutamente se l'avete perso ordinatelo perché poi c'è qualcuno che fa la serie Warhammer Conquest per i colori chi la fa per le miniature anche quello è bello chi la fa per gli elementi scenografici questo consiglio mio spassionato veramente prendetelo assolutamente perché questa è una pedina unica che ci avrete solo voi e il numero 6 che vedete qui davanti con dei rinforzi, tre rinforzi della Death Guard di Nargol e da quello che vedo qua giù dietro nel numero 7 ci saranno addirittura Shade mentre nel numero 8 bellissimo c'è un Librarian il Primaris Librarian che lo voglio assolutamente veramente stupendo per ora vi faccio vedere che cosa c'è all'interno questo è il numero 5 dove avete visto che c'è il tenente degli Ultramarine tra l'altro come in tutte le miniature che sta facendo la GV ma in particolar modo di questa serie di Conquest lo vedete non serve neanche la colla per montarle ovviamente per attaccarle sulla base sì quindi comunque un po' di colla da terretta mettetecela sempre anche durante il montaggio perché comunque tiene meglio attaccata la miniatura apriamolo i vari pezzi del tenente più la base su cui incollarlo il numero 5 dove all'interno vi fa vedere la storia del personaggio in più cosa importante tra l'altro leggetela perché è bellina la storia del personaggio di Calcius di questo tenente degli Ultramarine e più avanti oltre a 9 regole ovviamente tutto quanto vi fa sempre vedere come montarlo ma soprattutto vi fa vedere come dipingerlo quindi magari ora chi dipinge miniature da una vita ragazzi se lo fa un po' come gli pare non ha bisogno di guide però la guida ti fa vedere bene quali sono i colori più indicati per il capitolo degli Space Marine quindi nel caso comunque vedete ci ha messo anche l'aquila dorata i bordi d'oro sulle spalline e cose del genere quindi dateci un'occhiata e poi come in tutti i numeri che escano c'è sempre una nuova missione quindi una cosa bellina anche di questo conquest che è un gioco di schermaglie ogni volta vi mettono sempre una barra due nuove missioni da giocare con tutte le regole speciali quindi guardatevi anche questo insomma mettetele sempre da parte e facendo l'abbonamento poi vi arriverà a casa anche il raccoglitore dove metterci insieme tutti quanti questi fascicoli per conservarli vi faccio vedere l'altro numero che è il numero 6 numero 6 con tre rinforzi della Death Guard che poi sarebbero questi una pedina del genere questi qui sono i rinforzi della Death Guard che troverete anche qui e sono belli veramente da morire come ho sempre detto il caos del 40.000 è bello però Nargol Nargol in particolare non Korn è molto più bello perché proprio sanno di cioè sono putridi sembra un misto fra Dead Space e qualcosa del genere sono veramente belli insomma questa è una delle miniature che troverete all'interno apriamolo i tre rinforzi della Death Guard che poi sono i Tainted Sons e questi a differenza come vedete ve l'ho detto è una pedina unica quella del numero 5 del tenente Calcius vedete che questi hanno addirittura il taglio nella basetta quindi per montare questi non serve assolutamente colla però ancora una volta un pizzico ecco mettete quando si montano noi ce la mettiamo sempre quindi con le tre basi e il numero 6 che al solito come tutte le cose ci fa vedere la storia chi sono questi tre i Tainted Sons nuove regole ovviamente perché poi mano a mano le regole si vanno anche più in espandere oddio già nei primi numeri ce l'avete il regolamento per giocare queste più che altro sono a volte o regole aggiuntive o appunto perché un gioco di schermaglie regole particolari dell'unità che trovate direttamente nel numero quindi nel blister vi fa sempre vedere come montarli vi fa sempre vedere come colorarli che questa secondo me è la più grande figata perché comunque uno va al negozio prima di spendere soldi o cose del genere può andare a vedere quali colori in particolare gli servono però comunque in qualsiasi negozio della GV andrete ad esempio qui a Livorno abbiamo il War Machine che è famoso consiglieranno sempre insomma quali sono i colori più indicati per dipingere le varie miniature comunque vedete che si va molto su colori freddi in questo caso qui poi va bene il risalto ovviamente il verde perché il colore principale di Nargol è il verde proprio il putrido il malato e poi missioni sempre come detto prima ci sono sempre ogni numero o quasi in tutti i numeri c'è sempre una missione con le sue regole particolari e questo è quello che troverete nel numero 6 ecco qua come vi ho detto i due shade nel numero 7 quindi niente miniature e nel numero 8 spettacolare questo non ve lo dovete far scappare il librarian bellissimo ah ragazzi vi ricordo cosa che mi stavo dimenticando che anche il librarian che troverete nel numero 8 è una pedina particolare da collezione infatti il nuovo modello di eroe ridisegnato quindi anche questa è una pedina esclusiva di Warhammer Conquest che al solito uno se la può comprare poi magari quando andrà a giocare con gli ultramarine nel suo nel suo negozio di fiducia insomma andrà a fare una partita una battaglia nell'esercito ce le potrete mettere tranquillamente quindi la cosa bella è che i personaggi speciali o comunque le pedine singole sono pedine da collezione quindi perlomeno quelle consiglio spensierato non volete fare Conquest però almeno quelle prendetele perché sono veramente una chicca io ve l'ho detto c'ho un amico che solo del tenente Calcius ne ha prese due proprio da di boh mi garba talmente tanto ed è talmente rara unica più che rara che ne ha prese due comunque beh questo qui che vedete è il numero 6 e dietro c'erano i numeri 7 e 8 che vi ho fatto vedere quale saranno le uscite comunque in descrizione trovate tutti i link per fare l'abbonamento per il sito della scelta e quant'altro e ragazzi se è una cosa che vi può interessare fatela assolutamente perché io non sono per Warhammer 40.000 cioè più che altro non è che non sono mi potrebbe anche garbare l'ambientazione come il fantasy e tutto però non mi garbano i giochi di eserciti troppo grandi che ci vuole un tavolo solo per te vi fa la lista dell'esercito e tutto questo è un gioco per chi come me adora le schermaglie quindi se adorate un gioco un po' più alla confrontazione dove in campo mettete massimo 10 pedine una cosa del genere ci sono anche battaglie più grandi però in media i numeri sono quelli lì è il gioco in assoluto Conquest che fa per voi e poi l'avete visto c'è anche la modalità singole missioni o messe insieme che fanno una campagna vera e propria ovviamente gioco non cooperativo pvp io ringrazio ancora una volta la chat per averci fornito questi numeri grazie di cuore è veramente un onore collaborare con voi e ragazzi ci vediamo insomma al prossimo video riguardante Warhammer Conquest in descrizione trovate il primo link sito della chat per fare l'abbonamento che potete o ricevere a casa o andate direttamente all'edicola di fiducia e tutti i nostri social ciao ragazzi alla prossima